Puoi tornare su terra. Grazie, grazie. Allora, mi scuso, siamo un po' in ritardo. Lo abbiamo sentito nominare e salutare il Presidente Petrollo che ha riconosciuto i meriti del governo Renzi che vanno dalle politiche nuove sul lavoro ai tagli di alcune tasse, qui sottolineo alcune. Ma chiaramente il Presidente Petrollo ha anche indicato che questo volo che noi abbiamo preso è ancora lungo e ancora abbastanza incerto. Alcune risposte le vorremmo dal governo italiano, qua rappresentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti. Buonasera a tutti. Io voglio ringraziare tutti voi per questo invito. il Presidente, poi sapete queste cose strane che succedono? Io arrivo qui, dopo il comandante Nespoli dice tu cosa hai fatto? Il job act. E lui? Lui è andato là sopra. Boccavate di lì. Esattamente uno va a casa e dice c'è ancora un sacco di roba da fare, adesso mi metto lì, mi metto la tuta, provo a studiare, vedo se divento ingegnere e proviamo un po' a vedere se facciamo di meglio. Comunque, no, veramente complimenti. Io credo che sono esempi, esempi. Sono la dimostrazione che le cose si possono fare, molto banalmente, perché nella nostra vita non raramente la prima cosa che ci dicono è non si può fare. mentre non è quasi mai vero che non si può fare. E' che uno non lo vuole fare, non ha voglia di farlo, non gli piace farlo, non gli interessa farlo, non gli frega niente farlo. Tutto quel che ti pare, ma non che non si può fare. E allora io penso che davvero noi oggi siamo in una fase molto interessante, molto importante, di grande cambiamento, di grande dinamicità. E allora dobbiamo avere la convinzione, la voglia di provare a farlo. di provarci. E se vogliamo provare a fare quello che è possibile in un bellissimo paese come il nostro, beh, io credo che dobbiamo provare a immaginare davvero che ci sono grandi opportunità, grandi possibilità e ognuno deve fare il proprio pezzetto, il proprio pezzo. E perché ognuno faccia il proprio pezzo credo che dobbiamo affrontare intanto un tema. Dobbiamo ricostruire alcuni punti, alcuni ragionamenti, prima di tutto sul piano culturale, del modo di pensare. Perché guardate, io da ministro spesso incontro delle persone che mi dicono ministro c'è un problema, mi devi fare una legge. E io gli rispondo se c'hai un problema è meglio che cerchi una soluzione. Perché nove volte su dieci la legge non è una soluzione. E allora dobbiamo provare a prenderla, guardarla un po' da lontano. Facciamo così. Noi abbiamo la vocazione a guardarci molto la punta dei piedi, a cercare una soluzione per domani mattina. Il tempo è diventato cortissimo e invece le cose grandi, le cose importanti, hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di invenzione, hanno bisogno di coraggio. E allora noi dobbiamo provare a guardarle da lontano, anche perché provate a pensarci. Se cammini guardandoti la punta dei piedi è probabile che eviti di pestare cose sgradevoli, ma è probabile che sbatti la testa contro un palo della luce. Delle due, meglio la prima della seconda. Cominciamo a provare a pensare che allora tenere la testa alta e guardare lontano ci aiuta. E se vogliamo tenere la testa alta e guardare lontano dobbiamo cominciare a ricostruire un impianto culturale, un modo di pensare. Beh, io credo che il primo punto che dobbiamo ricostruire è la relazione tra libertà e responsabilità. Noi veniamo da un lungo periodo nel quale abbiamo coltivato con molta cura, molto discusso dei temi della libertà, ma ci siamo scordati che la libertà esiste se c'è la responsabilità. La responsabilità è l'altra faccia della libertà e noi dobbiamo provare a costruirla tutti insieme. Io faccio sempre l'esempio banale. Esci di casa, trovi una bottiglia di plastica vuota sul marciapiedi, la prima domanda che ti scatta in testa è come cavolo è che il sindaco non ha ancora fatto spazzare? Ma è la domanda giusta. No, la domanda giusta è chi è quel cretino che ha buttato lì la bottiglia. Ma non la nostra testa, non scatta quella domanda, scatta quell'altra. Perché? Perché noi ci autoassolviamo, perché noi pensiamo che il problema l'abbiamo risolto avendo stabilito che la responsabilità è del sindaco che non ha spazzato. Questa cosa qui non va bene. Dobbiamo ricostruire l'idea di una società dove ogni cittadino per la propria parte, ogni imprenditore per la propria parte, chi governa per la propria parte, si prende la propria responsabilità. E allora la prima cosa che abbiamo provato di fare come governo è stata quella di prendercela alla nostra responsabilità, cioè di decidere. E qualcuno dice che non siamo tanto democratici, andiamo troppo veloci, non discutiamo a sufficienza. Io ho un'opinione esattamente opposta. L'Italia non è che non ha discusso abbastanza, è che non ha deciso abbastanza, è che ha preferito spesso e volentieri essere l'Italia del sì però. Sì, però. E il però sono dieci giri di filo spinato intorno al sì. E alla fine del però non ti ricordi più se il sì è sì o se il sì è no. E alla fine colpa di tutti, colpa di nessuno. Responsabilità di tutti, responsabilità di nessuno. Bene, noi abbiamo fatto una scelta diversa. Noi siamo convinti che questo Paese ha bisogno di decisioni. E la politica, il governo, deve prendersi la responsabilità di dire dei sì, che sono dei sì, e dei no che sono dei no. E alla fine i tuoi cittadini ti applaudiranno o ti fischieranno? Ti diranno che hai fatto bene o che hai fatto male ma sarà chiaro quello che tu hai voluto fare. Questo è quello che abbiamo fatto in questo periodo. E allora il Jobs Act l'abbiamo provato per questa ragione. Perché ci siamo detti questa è una cosa che bisogna fare e la facciamo. E non diremo mai che non l'abbiamo fatta perché non voleva Tizio, non voleva Caio, non voleva qualcun altro, non voleva il sindacato, non voleva la Confindustria. No, le cose che noi vogliamo fare le facciamo se siamo capaci di farle, se siamo convinti di volerle fare. Se non le facciamo è perché o non siamo capaci o perché non le vogliamo fare. E questo è, credo, il primo atto di responsabilità democratica nei confronti dei nostri cittadini. Perché questo è il modo di far capire che la politica, le istituzioni hanno un ruolo che è questo. Perché se la politica e le istituzioni non fanno il loro mestiere finisce che lo fa qualcun altro, finisce che le tue decisioni le prende qualcun altro. Una volta un magistrato, una volta un sindacato, una volta un giornale, ma la democrazia non è questa. La democrazia è la responsabilità di chi governa e la possibilità di controllare da parte dei tuoi cittadini. Questo è il primo passaggio, quindi una costruzione culturale, diversa. E insieme a questo c'è un secondo passaggio che sul piano culturale dobbiamo realizzare, che è un'idea positiva del successo. Nel nostro Paese, se una persona ha successo, chiedi a qualcuno cosa ne pensi, due volte su tre ti risponde avrà pagato delle tangenti, avrà rubato, avrà sfruttato i suoi lavoratori, avrà ereditato ingiustamente, dici te che ce n'è uno che dice sarà stato bravo, sarà stato intelligente, avrà giustamente rischiato, ma guardate che se noi non costruiamo una cultura del risultato, del successo, dell'ottenere ciò che si pensa giusto, legittimo, opportuno, possibile ottenere, non ce la caveremo, ma provate a pensarci. Noi abbiamo costruito esattamente la logica opposta. Io vengo dalla Romagna, sono figlio di una grande famiglia di contadini, eravamo in sedici in famiglia, quindi ho imparato rapidamente a vivere in comunità. Beh, quando si voleva dire di una persona sostanzialmente, irrevidalmente perduta, si diceva l'eunfalì, è un fallito. Provate a pensare alla parola fallimento, mi è piaciuto molto il ragionamento sull'errore, perché è lì. Noi, se applichiamo questa teoria, secondo cui, se tu commetti un errore, rapidamente sei un fallito, irrimediabilmente perso, mi spiegate chi è che proverà a prendere il rischio di fare una cosa nuova? Nessuno al mondo, perché io vado a fare il dipendente di Mario, che sono tranquillo, saranno cavoli suoi quel che succede. Ma un paese può crescere se non coltiva i propri scout, se non coltivi i propri talenti, se non coltiva quelli che ci provano, se non sta di fianco a quelli che, se si sbagliano, ci riprovano. Se si sbagliano, hanno un'altra opportunità. Ma noi abbiamo imparato a usare la parola fallimento e l'abbiamo applicata all'impresa e alla persona. Noi bisogna che cambiamo questa logica, dobbiamo costruire l'idea che c'è un dato positivo anche dentro gli errori, specialmente se gli errori li riconosci e eviti di nasconderli sotto il tappeto perché un errore è un errore e si rimedia. Se l'errore non lo rimedi diventi un disastro. Ecco il problema vero, non riconoscere gli errori e portare a compimento i disastri. Questo è un altro problema che ce l'ha anche la politica, sapete, ce l'ha chi governa perché noi veniamo da una cultura in forza della quale siccome chi governa ragionava in termini fondamentalmente di una sorta di ideologia, di pensiero completo autorisolto in sé quindi tutto perfettamente a posto non era legittimo ammettere che un pezzo fosse sbagliato. Quando una cosa l'avevi fatta doveva andare bene per forza perché se era sbagliata quel pezzetto lì poteva essere sbagliato tutto il sistema e quindi abbiamo passato degli anni a spiegare che avevamo ragione noi e che erano gli altri che non avevano capito invece avevamo semplicemente sbagliato e allora bisogna che adesso cominciamo a cambiare questa logica. Accettiamo la logica del costruire delle politiche verifichiamo i risultati se funzionano bene se non funzionano vuol dire che da qualche parte non ci abbiamo preso ammettiamo che non ci abbiamo preso e le cambiamo facciamo quello che fate voi nelle vostre aziende quando avete un problema ci comportiamo esattamente come vi comportate voi e come ci comportiamo noi nella nostra vita tutti i giorni ogni giorno facciamo i conti con la possibilità di commettere un errore. Io credo che questo sia l'altro passaggio insieme a questo dobbiamo fare un altro sforzo non banale questo paese non ha ancora fino in fondo costruito una cultura positiva un'idea positiva dell'impresa c'è ancora un pezzo di questo paese che pensa che l'impresa è una disgrazia che va sopportata perché ci dà da lavorare ma se potessimo evitare ce la eviteremmo volentieri io credo che questa idea è un'idea profondamente sbagliata l'impresa è un'infrastruttura sociale essenziale è una condizione imprescindibile per la crescita e lo sviluppo della società e quindi dobbiamo metterla in valore non distruggerla e quando sento qualcuno che mi dice ah ma ministro voi avete puntato troppo sulle imprese per la crescita e lo sviluppo domanda di Poletti su chi cavolo dovevo puntare il lavoro chi me lo dà le imprese che ci sono che crescono e quelle che non ci sono che nascono cioè c'è qualcuno che è innamorato ancora dell'idea dello Stato che fa i panettoni noi no non abbiamo nessuna idea in questo senso noi se vogliamo costruire sviluppo e crescita lo possono fare solo l'impresa e gli imprenditori e se vogliamo andare per questa strada allora il nostro compito qual è? è quello di produrre le condizioni per le quali gli imprenditori possano fare bene il loro mestiere e la prima cosa che dobbiamo fare è sapere che fare il vostro mestiere è fare i conti con il rischio con l'incertezza prendervi la responsabilità di prendere decisioni in situazioni difficili dove non c'è certezza di ciò che accada quella cosa che possiamo fare noi per aiutarvi è di non aggiungere delle incertezze alle vostre incertezze voi vi dovete preoccupare dei vostri concorrenti vi dovete preoccupare di chi fa un prodotto alternativo al vostro vi dovete preoccupare dei mercati finanziari vi dovete preoccupare di quelle robe lì noi non possiamo dirvi anche preoccupatevi del fatto che se uno non vi paga ci vogliono dieci anni prima di avere una sentenza del tribunale non possiamo dire preoccupatevi del fatto che se avete un problema sul lavoro state lì dieci anni prima di aver capito come va a finire questa storia non possiamo aggiungere incertezza alle vostre incertezze voi avete già un contesto di incertezze che dovete governare perché siete degli imprenditori lo Stato le istituzioni gli enti locali noi tutti dobbiamo mettervi nelle condizioni di poter fare bene il vostro lavoro avendo già uno stock di incertezze di problemi da valutare che sono già più che sufficienti ecco perché abbiamo fatto la scelta della riforma del mercato del lavoro l'abbiamo fatta perché eravamo di fronte a regole vecchie a regole inadeguate a regole incerte che portavano un elemento di incertezza ulteriore rispetto a quelle che fisiologicamente ognuno di voi doveva affrontare e qui io mi sento di dirlo in termini molto molto franchi c'è un qualche cattivo qualche cattiva abitudine nel nostro paese quella che io vorrei definire quasi una sorta di doppia morale noi anziché decidere cosa vogliamo che accada non raramente preferiamo guardare quello che capita e lasciarlo accadere provate a pensarci noi abbiamo avuto un problema sul mercato del lavoro evidentissimo noi abbiamo un problema storico il tasso di occupazione medio del nostro paese è storicamente più basso degli altri paesi europei anche quando l'Italia va benissimo il tasso di occupazione è 7-8 punti più bassi degli altri paesi europei quindi vuol dire che questo paese marcia col freno a mano tirato perché se un paese ha il 65% 67% dei suoi cittadini che lavorano producono ricchezza e l'Italia ne ha il 57 58 59 è chiaro che abbiamo dei problemi a gestirci lo stato sociale a far funzionare i servizi e tutto il resto quindi noi abbiamo un grande problema che è ampliare la base produttiva di questo paese far partecipare più cittadini più imprenditori più lavoratori più scienza più cultura più sapere al futuro di questo paese questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare allora da questo punto di vista ad esempio noi abbiamo fatto un'operazione sbagliata che è stata quella della precarizzazione del mercato del lavoro noi veniamo da 20 anni di mercato del lavoro precario guardate questa cosa ha fatto danno ai lavoratori e ha fatto danno alle imprese perché noi abbiamo avuto persone che stavano nel mercato del lavoro ma non avevano un contratto di lavoro stabile dopo tre mesi sei mesi nove mesi dovevano tornare a casa e dovevano chiedersi se gli avrebbero rifatto o no il contratto ma quella non è la condizione migliore perché quella persona impari bene a fare il suo lavoro quella persona se ne frega del lavoro che fa perché se fra tre mesi la mandi a casa quello pensa che tanto poi alla fine l'importante è arrivare alla fine dei tre mesi ma guardate che lo stesso segnale è negativo l'abbiamo dato alle imprese perché gli abbiamo lasciato credere che potevano competere in quel mercato risparmiando un mezzo euro sul costo del lavoro non va così non funziona voi lo sapete benissimo noi siamo i più bravi se stiamo davanti agli altri non se pensiamo di cavarcela limando lo 0,0001 sul costo del lavoro quindi abbiamo fatto l'operazione sul contratto a tempo indeterminato e la decontribuzione perché noi vogliamo un contratto di lavoro stabile e un buon mercato del lavoro perché è utile per i lavoratori e utile per le imprese italiane e abbiamo voluto sconfiggere cambiando il contratto di lavoro cambiandolo nelle regole e rendendolo più economico la paura ad assumere a tempo indeterminato perché nel nostro paese nel tempo si è prodotto una sorta di condizione per cui sembrava quasi impossibile poter assumere una persona a tempo indeterminato beh noi vorremmo che il mercato del lavoro nel nostro paese tornasse normale la normalità tornasse ad essere assumere a tempo indeterminato con una tipologia di contratto che se la devi interrompere ad un certo punto la puoi interrompere perché non puoi rimanere lì tutta la vita se le condizioni della tua impresa ti consentono e ti richiedono di cambiarlo e dall'altro punto che il contratto a tempo indeterminato sia un contratto stabilmente permanentemente meno costoso delle altre tipologie di contratto a quel punto ci sono i contratti a tempo determinato ogni imprenditore sceglie liberamente quello che vuole scegliere ma lo fa in un contesto chiaro sapendo quali sono i vincoli normativi e quali sono i costi che vada a affrontare e a quel punto alla pari con una concorrenza e una competizione che sia chiara diretta e sia trasparente io credo che stiamo facendo un buon lavoro da questo punto di vista perché i numeri ci danno ragione l'Ocse oggi ci ha confermato che la dinamica della crescita del nostro paese sta migliorando più velocemente di quello che avevamo immaginato e se posso dire poi per essere molto veloce guardate questa è la logica fondamentale del nostro agire noi siamo convinti che nel nostro paese è indispensabile fare politiche che aumentino la dinamica dei comportamenti che li anticipino nel tempo perché se noi aspettiamo di uscire dalla crisi secondo la dinamica naturale dei fenomeni economici del nostro paese consumi investimenti eccetera noi ci saremmo trovati nel 2015 con lo 0,4 0,5 ci saremmo trovati l'anno prossimo con lo 0,9 e lo 0,10 ma guardate che con l'1% non si va da nessuna parte e allora provate a pensarci noi abbiamo fatto questa operazione sulla decontribuzione e il taglio dell'IRAP sul costo del lavoro perché? perché dentro e dietro una crisi che è durata sette anni l'occupazione non riparte il giorno dopo l'occupazione storicamente dietro tutte le crisi cicliche è ripartita 10-12 mesi dopo ma per una ragione ovvia perché un'azienda prima di assumere una persona richiama a lavorare quelli che sono in cassa integrazione in contratto di solidarietà prima satura gli impianti e poi fa gli investimenti e poi assume le persone questo è quello che è normale che accada noi abbiamo fatto questa operazione perché? perché abbiamo voluto dire bisogna andare più veloci non possiamo aspettare la dinamica ordinaria dell'economia perché altrimenti la finestra che abbiamo figlia anche del contesto internazionale quindi il prezzo del petrolio piuttosto che le cose che ha detto il professore prima che ci dice peraltro che questi dati non sono tutti in un senso non vanno solo da una parte se crolla il prezzo del petrolio hai meno costi da petrolio ma i produttori di petrolio hanno un problema tecnico non hanno più soldi per comprare da te quello che compravano prima quindi c'hai un più ma c'hai anche un meno quindi prima di dire che dipende tutto di lì bisogna guardare bene che cosa succede sui due piatti della bilancia ma il dato di fatto è questo noi abbiamo questa finestra internazionale importante positiva abbiamo una politica europea draghi le scelte fatte positiva c'è bisogno di una politica nazionale capace di fare d'acceleratore questo meccanismo capace di fare in modo che gli effetti arrivino prima si cumulino non che ci sono quegli effetti e poi fra tre anni arriveranno gli altri perché se aspettiamo che arrivino fra tre anni gli altri forse gli altri non arriveranno più e quindi noi oggi abbiamo bisogno invece di invertire questa dinamica e farla diventare molto più veloci la nostra legge di stabilità va in questa direzione ha questo spirito cerca di introdurre elementi di accelerazione nella crescita e nello sviluppo cerca di farlo con le risorse economiche che ci mettiamo dentro un po' di miliardi in più che diventano pil e dall'altra parte mettendo in efficienza la macchina perché dall'altra parte abbiamo bisogno che la pubblica amministrazione funzioni meglio che le regole siano più chiare che le leggi arrivano più velocemente quindi abbiamo bisogno di fare quella cosa che si diceva prima guardare lontano avere una strategia fare le scelte che ci portano là ma poi dobbiamo fare le politiche tutti i giorni e allora dobbiamo decidere che quattro euro che abbiamo li mettiamo oggi nelle politiche della crescita nelle politiche dello sviluppo nelle dinamiche che fanno sì che i nostri cittadini possano avere fiducia nel loro futuro bene io non voglio farla più lunga io vi voglio ringraziare molto per quello che avete fatto e state facendo io ho ascoltato i vostri numeri in apertura veramente eccezionali un obiettivo mi verrebbe da dire se vado in giro a molta altra parte del nostro paese credo di dover dire proviamo a fare come Verona in certo modo vediamo se i numeri della disoccupazione vanno a finire lì magari abbiamo un obiettivo su cui lavorare e possiamo farlo insieme possiamo farlo insieme recuperando anche un altro dato e l'ultima considerazione guardate il tema dei contratti e della relazione tra lavoro e impresa io credo che questo sia un altro terreno su cui abbiamo bisogno di lavorare molto in prospettiva futura perché noi abbiamo un tema che è la produttività ma abbiamo un tema che è la partecipazione del lavoro all'impresa provate a pensarci noi veniamo da una storia dove il rapporto tra il lavoro e l'impresa l'abbiamo sempre costruito su una sorta di doppio binario il conflitto e il contratto io credo che oggi il conflitto e il contratto non sono più in grado di interpretare positivamente la relazione tra il lavoro e l'impresa abbiamo bisogno di qualcosa di molto più forte di molto più stringente di molto più capace di interpretare la relazione tra poletti cittadino poletti lavoratore e l'opera il risultato del proprio agire non possiamo cavarcela a vendere delle ore le ore vanno bene per i somari attaccati alla stanga del mulino ma per chi sta lì a produrre a innovare a pensare a immaginare a creare quel metro non è più in grado di misurare la realtà delle cose questa è una grande scommessa qui non c'è qualcuno che ha capito sì e che ha capito no questo è un pezzo del problema che riguarda il ministro riguarda la cultura riguarda l'imprenditore riguarda il lavoro riguarda i lavoratori io credo che qui ci stiamo scommettendo una grande parte del nostro futuro perché qui dentro c'è la qualità del modo di essere italiano la manifattura i servizi l'innovazione l'invenzione questo è quello che noi possiamo fare la grande qualità dei nostri imprenditori insieme alla grande qualità del lavoro italiano se riusciamo a mettere insieme questi due dati io credo che il futuro di questo paese sarà sicuramente molto più brillante grazie a tutti e buon lavoro